Risotto ai carciofi e guanciale. Il risotto ai carciofi e guanciale è un primo piatto rustico, profumato e saporito che sposa la delicatezza dei carciofi con il gusto intenso del guanciale. La preparazione è abbastanza semplice ma richiede una certa cura nella pulizia dei carciofi. Una volta pronti gli ingredienti, la cottura del risotto è rapida e di semplice esecuzione. Gli ingredienti necessari sono i seguenti. 400 g di riso carnaroli, 3 carciofi, 50 g di guanciale, un mezzo bicchiere di vino bianco, un mezzo cipolla, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, olio extravergine di oliva, il sale. Per preparare il risotto ai carciofi e guanciale procedere con i segue. Pulire i carciofi eliminando le foglie più dure e tagliarli a spicchi sottili. In una padella far rosolare la cipolla con un filo d'olio. Aggiungere i carciofi e farli cuocere per qualche minuto. Unire il guanciale, tagliato a dadini e farlo rosolare per 5 minuti. Sfumare con il vino bianco e farlo evaporare. Aggiungere il riso e farlo tostare per qualche minuto. Bagnare con un mistolo di brodo caldo e far cuocere a fuoco medio per 18 minuti. A cottura ultimata, aggiungere il parmigiano grattugiato e mescolare fino a farlo sciogliere. Servire il risotto ben caldo con una spolverata di prezzemolo tritato. Il risotto ai carciofi e guanciale è pronto per essere servito in tavola.